Tirati un po' più su così si vede la gonna? No, no, poi io sembrò bassissima Spiro un po' più sulla gonna Brava Buonasera a tutti e benvenuti in questo nuovo video Ho qua come ospite specialissimo Fiore Manni Ciao a te Sono qua a Roma perché stasera andiamo al concerto di Aurora Lei carissima mi aiuta Poi faccio l'accompagnate di stasera Stasera sono chiesti Ti accompagno... No, non so Nel senso che ti accompagno al concerto Stasera C'è la vera che faccio sempre Non so come si è battuta Stasera che vedo il marcio del concerto Quindi lei mi accompagna Ti accompagnerò al concerto di Aurora Esatto Per chi non lo sapesse Beh, magari alcuni di voi ti conoscono per il Camilla Store E io ero conduttrice In questo programma per bambini Dove facevi la stylist E tutto quanto per i miei Più che stylist Proprio la stylist Perché disegnava il bozzetto Per realizzare Ah ok, facevate proprio L'outfit Sì Ho utilizzato i miei studi Quando ho studiato moda? Ho studiato moda Non puoi mica disegnare questi vestiti pieni di fiocchi Alle collezioni E io mi ricordavo Ma io voglio fare moda uomo A me piace Moda uomo classico Tra l'altro Perché dovrei disegnare dei vestiti l'unità Da parte scontata Da parte scontata Assolutamente Ma come... Infatti la mia risposta standard era Alexander McQueen si investiva in jeans e t-shirt bianca Per caso lui nelle collezioni disegnava poi t-shirt bianca e jeans No, ha fatto le armadille Ci ha fatto delle cose super pazze Bellissime Come? Scusami Ma ecco A parte questo percorso qua Tu sei arrivata a fare quello che volevi Ovvero scrivere Ora ti si può chiamare ufficialmente scrittrice Ufficialmente scrittrice Hanno scritto... Mi hanno presentato come la qualsiasi Ecco Mi hanno scritto la qualsiasi tipo L'influencer, l'instagram, la raccontatrice televisiva Quando avevano scritto il libro Tranne che scrittrice no Cioè i miei soldi come scrittrice Perché già scrivo adesso Vorrei essere riconosciuta come scrittrice e basta Ma... Ci stiamo arrivando dai Ci stiamo arrivando piano piano Però appunto è... Già sapevo che ho un passato un po' ingombrante Per entrare nel mondo della letteratura Quindi so che... Tu vorrò un po' del tempo prima di cercare Sì, anche perchè Purtroppo nel mondo della letteratura Ci sono un sacco di pregiudizi Di confronti delle persone che vengono da altri ambienti Oh, lo so bene Il mondo della televisione eccetera Quindi è stato un po' difficile Però fortunatamente ho avuto Dei scontri molto positivi Proprio sulla qualità della scrittura Che è la cosa diciamo che nel mondo della letteratura Mi interessa di più Cioè se scrivere bene Ti accettiamo Allora nel nostro mondo Ti accettiamo, esatto Esatto Fai un po' meno schifo Sì, immagino Chi mi segue su Instagram L'avrò già visto Che ho fatto varie stories Su questa conoscete un libro Che tra l'altro vi consiglio di tutto quale Però mi è capitato spesso di leggere Tra i commenti che ricevo Di persone a cui piace scrivere Che vorrebbero fare gli scrittori nella vita E quindi chi merita Per aiutarvi a trovare Allora, quanto tempo abbiamo per questo libro? E meno così capisco come regolarmi con il discorso Dieci minuti massimo ti do Ok, allora Allora iniziamo parlando proprio dell'iter Cioè del come arrivare a una pubblicazione Normalmente faccio un discorso un po' generale Ma basato anche proprio sulla mia esperienza Sulla tua esperienza Immaginiamo di aver scritto un romanzo Che già non è ancora facile arrivare a fare Esatto Arriviamo ad avere il nostro monoscritto Come fare per fare arrivare il nostro monoscritto a un editore Perché immaginate che Adesso come adesso Ci sono pochissimi lettori Ma tantissime persone scrivono Però non tutte le persone che scrivono Possono definirsi davvero scrittori Anche questo è molto Cosa intendi? Che purtroppo scrivono molte persone Che non sanno scrivere Ah ok E quindi per l'editore Ma soprattutto per l'acquirente Quindi per il lettore È una scelta sempre più difficile Fidarsi nel comprare magari degli sorprendenti o altro Perché molti scrivono senza saperlo fare Esatto Quindi purtroppo nel mercato italiano Di solito i lettori si buttano sempre sui classici Ok Infatti gli sorprendenti vendono molto molto poco Ci sono gli sorprendenti Vende 600 copie in un anno È comunque un buon risultato Wow Perché noi siamo dei lettori principalmente di classici Perché classici Sono una garanzia diciamo Esattamente Sono una sicurezza Soprattutto appunto I libri costano È un investimento alla fine Dare 15€ 18€ O 20€ A un esordiente Quindi O ti conosco o non mi fido Bravissima Quindi immaginatevi Che un editore Riceve ogni giorno Tantissimi Tantissimi Manoscritti in lettura Quindi Per riuscire a sfoltire Anche perché Di solito c'è un editor Che legge parte dei manoscritti Per capire quale è buono E quale vieni a comprare E quale pubblicare Cosa succede che Le case editrici Soprattutto poi le case editrici grandi Stiamo parlando di Di grossi nomi come Mondadori Rizzori Si affidano moltissimo Anche agli agenti letterali Gli agenti letterali Sono quelli che Prendono in lettura Il romanzo Dallo scrittore Fanno il contratto E poi sono loro Che propongono Il romanzo Alle case editrici Quindi c'è l'ottica Una selezione Probabilmente La case editrici si fida di più Esattamente È la stessa antica cosa Che ho visto per il contratto Per esempio Nell'ambiente della moda Cioè io che sono uscita Da un istituto Di moda E le persone che sono venute A vedere la nostra tesi Erano persone Del settore Quindi per esempio Io dopo la mia tesi Sono stata chiamata Da Versace Da una terza azienda Che nessuno mi ricordo Perché diciamo Loro si fidano Perché sanno che tu Che esci da questa scuola Hai quei requisiti Che servono A questo ufficio sir Perché ogni ufficio sir Naturalmente Usa programmi diversi Ha un metodo di lavoro diverso Quindi la stessa antica cosa Anche l'azienda Si fida naturalmente Di una persona Che fa questo mestiere Che ha ottio Comunque immaginatevi che Se normalmente Un editore Riceve 100 manoscritti al giorno Comunque Gli agenti letterari Ne mandano 40 al giorno Quindi è lo stesso Wow È come una Abbiamo il nostro manoscritto Per riuscire ad arrivare A una grande casa editrice Abbiamo bisogno Di trovare un agente letterario Dici per forza Dici che è meglio Per forza Per forza Perché purtroppo Sì sì appunto O è il nostro romanzo di sordi Magari ci vogliamo affidare A una casa editrice piccola Che ha un pochino più di Più cura di noi Nel promuoverci Perché comunque Essere pubblicati Con una casa editrice grande Ha comunque Vantaggi e svantaggi Ovvero Vieni pubblicato Insieme a tante altre persone Che sono molto più famose di te E sono molto più conosciute Quindi di passare più in secondo piano Assolutamente Una casa editrice piccola Invece che magari sta crescendo Ha più cura Nel promuovere il tuo libro Non che crede Di più o meno In te di stare In una casa editrice piccola Però effettivamente Ha più possibilità Di seguirti Certo La stessa identica cosa Vale anche per le agenzie Gli agenti letterari Quindi un'agenzia grande C'è il rischio che Ti lascia un po' a te stesso Quella piccola Invece col fatto che Gli agenti letterari Guadagnano Sui successi dello scrittore Ma funziona così come Gli agenti per i registi Gli agenti per gli sceneggiatori Gli agenti per gli attori Per tutti quanti Per le agenzie di moderni Insomma Sono delle persone Che ti trovano a te il lavoro Naturalmente Devo guadagnarci anche loro Quindi sono spronate a venderti il libro Assolutamente A vendere bene il tuo libro Perché se il tuo libro vende Il prossimo lo vende di più E così ti aiutano comunque A creare la tua cardiera Quindi bisogna capire Il mio romanzo d'esordio Cosa voglio fare Proprio con Delle agenti letterarie grandi O con quelli piccoli E lei proprio Penso che qua si scelvia Proprio a livello umano Tu come hai fatto? Io sono stata Ho scritto A due agenzie letterarie Che erano diciamo Quelle più grosse in Italia Mi avevano scelta tutte e due Da me E poi ho scelto quella Naturalmente Che mi aveva fatto poi La proposta migliore Perché naturalmente I libitori si prendono Una percentuale Quindi io poi Ho scelto quelli che Mi offrivano Le condizioni migliori Insomma E io adoro la mia gente Sì L'adoro tantissimo E' fantastica Ed è molto importante Che ti piaccia il tuo agente Perché tu devi essere Soddisfatto al 100% Perché alla fine Penso che Un libro Sia Una cosa importantissima Tuo figlio Sì Esatto E' come se fosse tuo figlio E tu lo lasciai Alla maestra d'asilo Non vorresti mai scoprire Che una maestra d'asilo Picchia tuo figlio Direi che è meglio di noi Sì Quindi sapere che tuo figlio Sta crescendo Con una maestra d'asilo Super premurosa Che lo sta accompagnando Alle scuole elementari Certo Tu sei molto felice Certo Stai tranquillissima Che sai di stare In ottime mani In ottime mani E' importante appunto Anche incontrare Poi da vivo Le persone E capire Il feeling Esatto Poi se l'agente letterario Dice Il tuo amazzo Mi piace Ti offro un contratto Poi l'agente letterario Deciderà Il tuo libro A quale case editrice Può essere mandato Perché naturalmente Il nostro romanzo Non può andar bene Per tutte quante le case editrici Ok Questo perché Ogni case editrice Ha la propria linea editoriale Per esempio Se il nostro romanzo È un giallo Non lo possiamo proporre A una case editrice Che si occupa di romanzi rosa Poi cioè Se penso alle case editrici Che conosco io Non riesco Cioè non le collego A delle categorie in particolare Eh perché è molto Molto più sottile la cosa Questo perché penso Che non si dà l'ambiente Perché nel momento in cui Entri in questo meccanismo Leggi il romanzo tu Se immediatamente Questo è un romanzo Che si può presentare A questa case editrice Questo è un romanzo Che può essere presentato A questa case editrice Faccio la stessa identica Esempio con la moda Tutti quanti fanno pantaloni Ma se tu disegni i pantaloni In un determinato modo Utilizzando un determinato tessuto Tu dici subito Questi sono dei pantaloni Che possono essere prodotti Da Miu Miu o da Prada Ok E penso che sia esattamente Capo io non avevo mai pensato A questa cosa Sì Quindi quando noi scriviamo un romanzo Dobbiamo pensare anche a delle cose Molto importanti Ovvero noi scriviamo Penso principalmente per noi stessi Perché abbiamo bisogno Di raccontare quello che abbiamo dentro Io nel mio caso penso Di essere un costruttore di mondi Quindi avevo bisogno Di scrivere questa storia E l'ho scritta senza pensare A scrivere un romanzo per ragazzi Ambientato in Io ho scritto e basta Quindi Una volta che abbiamo finito Dobbiamo proporci delle domande Perché Naturalmente Il romanzo Deve essere letto Da qualcuno Quindi dobbiamo Scriverlo nel modo migliore Per rendere la lettura Il più piacevole possibile Quindi anzitutto Mi devo chiedere Qual è il mio lettore Il mio lettore è Persona XX Che ha questo genere di interessi Almeno così chiedendomelo Comincio a ragionarci sopra Qual è l'editore Che potrebbe interessare Anche questo Ci aiuta magari A tornare sui nostri passi Ricontrollare dei passaggi E andare a sistemare un pochino Quindi adeguarlo Esattamente Una cosa importantissima E' una cosa che Diciamo nel mondo creativo E' molto difficile Perché naturalmente Le nostre creature E nostre occhi Sono sempre perfette Bisogna invece Avere tantissimo Umiltà Perché quando il tuo agente letterario Ti dice guarda Secondo me questa cosa Potrebbe non funzionare L'agente letterario Non lo sta dicendo Perché vuole scriverti il romanzo Lo sta dicendo Perché crede in te E vuole tirare fuori Il meglio di te E la stessa identica cosa All'editor Quando poi uno lavora Con la casa editrice Ma tu l'hai editato Prima di mandarlo Alle case editrici? No Allora io l'ho scritto Nel 2014 La prima stesura Così come era uscito fuori Quello è arrivato In proposto Esattamente Perché ne avevo parlato con Si sta scaricando il batterio No Perché ne avevo parlato Con il mio agente E l'agente mi ha detto Vai lavori E fai l'editing Nel momento in cui Piazziamo il romanzo Perché non ha senso Lavorare E scrivere tutto quanto il romanzo Se poi non te lo prende Nessuna casetta E ti dice Perché naturalmente Io comunque lavoro Faccio altri lavori Sarebbe stato magari appunto Per del tempo Naturalmente L'editore Quando gli viene mandato In lettura il manoscritto Lo sa Sa questa cosa Quindi sa che poi tu puoi lavorare Ma comunque Già dalla prima stesura Capisce il valore Della tua scrittura E capisce il potenziale Della storia Quindi è quello che viene valutato Assolutamente E infatti poi L'ho completamente riscritto Cioè per esempio Proprio per farti un esempio semplicissimo Le prime tre righe Della prima stesura Sono diventate dieci pagine Quindi è stata una bella rivoluzione Della rivoluzione Esatto Diciamo che due terzi Sono stati completamente riscritti E il terzo Invece Ma se intanto è stato Allungato Cioè ho tirato fuori Delle cose che avevo solamente accennato Ok Però ecco Se il nostro manoscritto Poi venisse preso Da una case editrice Non ci dobbiamo scoraggiare Quando l'editor Ci da dei suggerimenti Non sa Perché magari tu hai una visione D'insieme D'insieme del romanzo L'editor invece Lavora capitolo per capitolo Quindi anche lì Bisogna riuscire a trovare un equilibrio E capire quando Fidarsi E quando invece Rimanere un po' più È un po' come un matrimonio E una relazione Bisogna riuscire a trovare I compromessi Esatto I giusti compromessi Nel lavoro Però la cosa davvero è Bisogna essere umili E se quello che volete fare Dovete andare avanti Anche se riceverete Un sacco di no Rolling Style Assolutamente Cioè la Rolling è stata Ristata da almeno Sei case editrici diverse Pazzesco Sì capito Quanto saranno mangiati le mani Quante persone saranno state licenziate Quando sono stato pubblicato di Harry Potter Tra l'altro Mi ha detto il mio editor Super capo Mi ha detto che la Rolling Ha fatto il boom con il terzo Che i primi due Avevano venduto bene Ma il terzo ha fatto proprio Quindi aspettiamo il terzo di Jack Esatto La stessa cosa ho detto io Madonna mi stai facendo questo discorso Perché mi sarei pubblicato anche il terzo Adesso sto lavorando al secondo Quindi Jack è il secondo Per me è un grandissimo traguardo Sono felicissima Si credo Si credo Adesso ho detto spoilerata Che uscirà il secondo Ah la gente lo sa ancora Si sa? Non si sa Ufficialmente sapete che uscirà il due Sappiamo anche quando? No Sto ancora scrivendo In casa No pressure Esatto Comunque la batteria ci sta salutando Quindi Vuoi chiedermi qualcos'altro? Mmm Vorrei parlare del processo di scrittura eccetera Ma non ce la facciamo Però se vi interessa Fatemelo sapere che la prossima volta che O io torno a Roma O tu vieni a Milano Facciamo Esatto 2.0 Che parliamo del processo di scrittura O se avete altre domande Scrivetele E noi capiamo come rispondere Si assolutamente Va bene In una serie con Fiore Spero di aver fatto un discorso No super Si Meno male Perché da partire da un discorso Ti pensavo più dispersiva Perché Normalmente sei più dispersiva Nel senso Ti prendi e vai Invece qua sei stata Brava Brava E te dovrei anche tenere un corso di scrittura creativa Adesso no Era una battuta Non lo so Non penso di essere adatto Però comunque stavo scherzando Non mi prendo questo tanto sul serio Ti assumerò allora come insegnante Va bene Ciao ti grazie per Grazie a te Per aver venuto in questo video È stato un sacco divertente Ma ti vedo che Sì sì Mi dispiace che ho agitato tantissimo le mani Ma quello sono abituati che Nel momento lo faccio anch'io Va bene Sono controllata forse perché sei tu che lo fai per tutte e due Esatto scusa No ma sono abituati anche loro Grazie mille Aspettiamo appunto i vostri commenti per sapere cosa ne petta di tutto questo Se siete anche voi aspiranti iscrittori Se avete altre domande per Fiore E niente Noi ci vediamo al prossimo video Una magica giornata Ciao 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 Ciao